io vengo tutti i giorni, per me l'abbonamento è l'uso 10 giorni a volte, non c'è un limite non so, siamo 12 siamo 12 vai là, siamo già 12 è di avvole c'è il cartonino c'è il cartonino c'è il cartonino 8 meter off the van and see pay koo do many times you can see you can see non sappiamo di scontrarci grazie sempre così una sale quale è qua la resmiata la resmiata di questa quale è qua la resmiata la resmiata la resmiata la resmiata la resmiata la piazza pediosa la piazza pediosa lei è già stocando delle scalte no 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 hai dato? non lo credo io andavo a costa io non lo so aiutavo a costa non c'è altro più se in percorrere è stato riuscire a costo un po' Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti